Non ci venga, non ci non serve a parlare, dici ma tutto cosa, sento per ci consigliare, perché stagia e preoccupare, adesso mamma che c'è, però se accadda, non sa che non vuole parlare. Più di 3.000 spettatori per nessuno è diverso, titolo del nuovo progetto musicale di Gianni Fiorellino, presentato al Palapartenope di Napoli. Una grande festa popolare, con tanto di luminarie, paranze e banda musicale, che grazie all'ausilio di tecnologia all'avanguardia, ha trasportato in scena l'atmosfera tipica di tante piazze di Napoli e della Campania. Tra gli applausi del pubblico, Gianni Fiorellino ha proposto una lunga serie di brani, hit scelte dal vastissimo repertorio costruito in 25 anni di carriera, per comporre una sequenza musicale dedicata all'amore, agli affetti più cari, ma anche a chi soffre e a chi non c'è più. Le esperienze che racconto attraverso questo spettacolo durano 25 anni. 25 anni è lo spazio che ho dedicato alla mia vita nella musica. Ho incontrato tante cose, tante persone, sono cambiato io tante volte, e per questo motivo mi racconterò anche attraverso un docufilm prossimamente, docufilm scritto, raccontato, perché è tutta verità, sulla mia vita, ma sulla vita dell'uomo, e la musica è servizio. Nessuno è diverso è dedicato a chi soffre, a chi gode in una speranza, e a chi spera che le cose possono cambiare, e a chi sa veramente che su questa terra nessuno è diverso. Tanti duetti con gli ospiti, da Monica Sarnelli e Paola Pezzone, ai rapper Livio Cori e Scoopy Benz. Spera di 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 S